Allora, ciao ragazzi, oggi siamo con Gabrix04 Ciao Ora, sto preparando il secondo video per domani Se vi servono le intro, credo nei commenti e ci contatteremo Io già ne ho fatte un paio e mi sono piaciuto ai miei amici Buon leo maggio, 4 possibilità Oro Gemme Barbari Bombarolo E cannone Allora, ti contiene che voglio vedere una delle tue intro migliori Così giustamente ti fanno un'idea di come ne fai le intro Ok, allora, diva video Allora Allora, lui fa le intro e io gli dico se sono buoni oppure quello da cambiare Giusto Vabbè, vado su, modifica perché non è vero che la faccio solo Tipo, ci faccio vedere quella là di Jim Maya Guardate BAM Questa è quella di Jim Maya Poi ci sta anche quella di Gabri Questa è un'altra Il mio, il mio, il mio, il mio, il mio video, poi l'ha arrivato di nuovo E poi Poi, 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 poi Che poi, cioè quella era da cancellare Poi c'è quest'altra di nuova No, 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 la devo far vedere Eh, ragazzi, non mi iscrivete su questo canale perché completamente non se lo merita lui Ma Scherzi, se lo merita, se lo merita Bravo, bravo il nostro I'm White Giustamente Ma che cazzo Ma che cazzo era? Cosa? Che è questo rumore E le persone che parlavano No, mi stavo guardando Chi tromba Chi c'è cesta Ah, chi c'è cesta Ah, no, eh, Pantella Eh, bravo Io me li guardo sempre Tipo, mia madre è Satana Me li guardo sempre E praticamente Sembra che stanno facendo Cos'è l'Oscar La devo migliorare La lapide Lapide? La usi? No E allora Non la usare Se ti manca poco Al Che tu per il livello E sei Allora lo puoi fare Poi Se hai i posti da buttare via Lo puoi fare Giustamente Allora Farò Prima tre partite battaglie E poi Due amichevoli Inizio con la Con la tattica Barbari Pincipe Non si sta dipendendo Non è vero Sì, ora si sta dipendendo Un bastardo Un pane Boom No, bomba No Ci sei tu online? Sì, però Sto facendo Selle battaglie Ok Come non si può Lo zop Oddio No, no, no I berberi I berberi Allora I berberi Mi capelli Troppo belli No, no, no Spingi questa Pinci questa Come se non ci fosse Andare Oh, lei Dai Dai Uuuuh Mi è stato Allora Un secondo Ok Il mio amico Mi ha Mi ha Contattato Un secondo Ti fichiamo Dopo ti fichiamo Allora Una briga Alla Uuuuh 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 Un buon barulogo Si accade Un buon barulogo 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 A presto, a presto, a presto. com a 4 ciao Carmi, portatoia, chiama qua. Hello. Stavi chiamando sul telefono in cui stavo registrando. C'è una metà la registrazione non si è fermata. Che bello, ho perso, 26 trofei. Ehm, comunque mi ha detto sì, mandagli un messaggio, diglielo, sono tizio, è tizio. Ah, sono Pinco, Pallino, ma gli hai dato il numero quello là di mia mamma? Si chiama Marco Messeri, si chiama Marco Messeri. Ehm, dove sono potuto mandare? Ciao. Nel tuo nome? Sono quello che c'ha fatto meglio, quali sono? Chi è che fa un amichevole con me, se ci sono soltanto due online? Io! Grandissimo. Madonna, le peggio battaglie si fanno. Vabbè, io faccio tutte le facce, arrabbiata. Eh, giustamente. Allora, preparati all'attacco della vita. Ok. Ma tipo, eh, lo stavo per dire. Perché la luce, porca... Madonna, santa. Penso che tu non avrai il peggio, giusto? No. Invece l'hai, è come, per scendere. Eh, ma l'ho spiegato. Non mi posso dire niente. Ok. 42p! La cosa si fa in te? Io non vedo perché c'è la webcam lì. Dai, buono, buono. Per ora, sono in vantaggio di poco. Attenzione, attenzione. Allora, con questa attacca io non mi dipendo. che ho spiegato solo i tir. Ma fatti, lo faccio così. Ma ci vediamo. Sprecato... Non vedi i tir, porca padrone, ma quanto ce n'hai? Allora, con questa attacca, anche se è da stacco. Allora, come ti dipendi? Oh, porca troia. Oh, cazzo. Eh, dai, e 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 dai, e... Oddio, sì? Lo so che ora c'hai solo una torre e quindi la monocrossina non la puoi contrastare. Bastardo! Aiuto! Aiuto, mi uccide, ti fai culo male! Culo, me lo faccio, picciolino, ok. Hai vinto di nuovo tu, come sempre. Buona fortuna.